Per l'edizione settima dopo il sisma e sessantaduesima della sua giovane storia, la processione del venerdì santo dell'Aquila ha riaperto il passaggio in alcune vie del centro storico. Un passo dopo l'altro la processione si riappropria del centro città con la speranza di tornare a ripercorrerlo interamente come era prima del 2009. La processione uscita dalla Basilica di San Bernardino interamente restaurata con un investimento di 25 milioni di euro è passata ai quattro cantoni, a Piazza Palazzo e sotto la Torre Civica. Quindi ha attraversato via Marrelli, Piazza Duomo, una piccola deviazione sulla parte bassa per la presenza dei cantieri. Il transito poi è proseguito davanti alla Chiesa delle Anime Sante, quindi ha recuperato il corso per fare il suo rientro nella Basilica di San Bernardino. Tra i canti e la devozione della processione del Cristo morto dell'Aquila non è mancato però lo strascico delle polemiche sulla mancata affissione del crocifisso in Consiglio Comunale. Come è annunciato, i consiglieri del centro-destra si sono tirati indietro rispetto alle altre autorità. Giunta, Sindaco, c'era la senatrice Stefania Pezzopane e il presidente della provincia Antonio De Crescentis. Il passo indietro è servito per protestare contro la mancata affissione del crocifisso nell'aula consigliare. Io non ho cacciato nessuno, si sono allontanati loro, sono piccoli e anche in questo ha sottolineato il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente. I consiglieri di centro-destra hanno riferito da canto loro che il primo cittadino avrebbe detto tra noi e loro ci devono stare almeno i carabinieri. Tra i rappresentanti di questa singolare protesta per il crocifisso, anche la senatrice del Movimento 5 Stelle, Enza Blundo. Un parterre d'eccezione con produttori vitivinicoli provenienti da tutta la regione, critici enogastronomici e amministratori regionali per la presentazione ufficiale dell'edizione 2016 della plasonata guida Bibenda. Sua eccellenza il vino d'Abruzzo è stata la prima edizione che apre la stagione delle attività della Fondazione Italiana Sommelier Abruzzo Centrale guidata da Antonello Moscardi. Con questa nuova associazione stiamo in partenza oggi, abbiamo il piacere di avere con noi il nostro Presidente nazionale che è la prima volta che viene all'Aquila. Per la prima volta all'Aquila facciamo una degustazione così importante dei migliori vini della guida Bibenda e il 3 ottobre, oltre a tutte le altre manifestazioni che abbiamo già in programma, il 3 ottobre partirà un primo livello del corso qui all'Aquila. La Fondazione Abruzzo Centrale copre un ampio spazio, quindi tutta l'Abruzzo Montano, quindi nei nostri programmi c'è anche fare corsi a Sulmona, a Vezzano, quindi tutta la zona dell'Abruzzo interno. In termini di iscritti che diffusione avete? In Italia siamo l'associazione che copre di più il territorio al momento. Qui all'Aquila abbiamo un bel seguito, soprattutto di appassionati, quindi il nostro obiettivo è quello di fare corsi proprio per capire chi vuole seguirci. I rappresentanti della Scuola di Eccellenza e dell'Accademia del Rugby di Lechester sono stati ospiti all'Aquila della Rugby Experience School. Lo scorso mese di febbraio, in un incontro avvenuto a Dublino tra i rappresentanti della società aquilana e quelli del club irlandese, è stata stabilita la partnership che prevede una serie di attività di collaborazione e scambi che si svolgono in Italia e in Irlanda. Punto di partenza è stato proprio l'arrivo all'Aquila dei rappresentanti irlandesi. Abbiamo incontrato dei veri professionisti aperti al dialogo e al confronto senza mai porsi sul gradino della superiorità, un vero team di rugby. Ha dichiarato così il presidente di Rugby Experience School, Marco Molina. Trovare questa collaborazione col club più importante a livello europeo che sta lavorando a 350 mila ragazzi con i quali lavora. Quindi siamo stati accolti benissimo, adesso i nostri ragazzi andranno su, loro sono qui presenti, ma soprattutto vuol dire che noi andiamo ad apprendere le migliori pratiche, non solo sportive, ma soprattutto organizzative, vedi come si approccia ai ragazzi, ad avvicinare i ragazzi prima che al rugby allo sport. I rappresentanti delle cester hanno partecipato alle attività dei due progetti principali portati avanti dalla giovane società aquilana, il mini rugby e il progetto scuola. Tra le attività un allenamento con gli atleti aquilani e lo staff tecnico del Rugby Experience School. Oltre al progetto con gli istituti scolastici che aderiscono all'iniziativa, la scuola Rugby Alleniamo Insieme il Futuro, un percorso didattico rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. In particolare il progetto condotto nelle scuole è un progetto di qualità molto vicino al nostro modo di lavorare negli istituti scolastici irlandesi. Ha così dichiarato Adam Murray Griggs, che originario della città neozelandese Chris Church, colpita da due forti terremoti nel 2010 e 2011, ha sottolineato la vicinanza tra le due città al termine della visita nel centro storico aquilano. Una giornata speciale per il Rugby femminile abruzzese, Andrea Di Giandomenico, allenatore della Nazionale Femminile di Rugby, è tornato infatti per Pasqua nella sua L'Aquila per svolgere uno stage teorico e pratico con le squadre del territorio. Il Teramo, il Sambuceto e le Belvenero Verdi, ragazze e allenatori, tutti insieme, hanno svolto una lezione in aula e poi sul campo con l'allenatore dell'Italian Rugby femminile che ha ottenuto i migliori risultati nel settore. Per quanto riguarda l'attività di oggi, sono presenti tutte le ragazze che appartengono al movimento regbistico femminile abruzzese. Qual è il termometro di questa realtà regionale? Ottimo, io ne parlavo prima anche con loro, loro sono un esempio fortissimo di quello che è la necessità del nostro movimento, ovvero una comunione di intenti, una grande disponibilità da parte delle ragazze sicuramente, ma anche delle società, degli allenatori, dei dirigenti e questa è sempre quella strada tracciata di cui ti parlavo prima. Se andiamo tutti insieme nella stessa direzione non si possono che avere benefici per tutti. Qual è il valore aggiunto di una giornata come quella di oggi? Persone come quella che hanno un'esperienza, una cultura enorme, anche noi allenatori solo da due frasi riusciamo ad aprire un mondo. Di cosa avete parlato questa mattina? Abbiamo parlato un po' di come le nostre ragazze si allenano, il tipo di allenamento e quello che dovremo cercare di fare, come ci ha spiegato lui, velocizzare il gioco, che è il nuovo metodo del rugby, non più quello che si conosce, che lo porta a chiamarlo uno sport di violenza perché tutti vedono che si accalcano, ma uno sport più alla mano, più veloce. Grazie a tutti.